L'Asla Toscana Sudesta presenta il nuovo Dipartimento di Medicina Legale e Tutela di Diritti in Sanità. La macrostruttura è composta da due aree dipertimentali, la medicina legale, gestione delle responsabilità sanitarie e la promozione ed etica della salute. In cui abbiamo messo insieme la linea della medicina legale, insieme alla linea della tutela della violenza, della violenza di genere, sono due temi rilevanti uniti insieme da un unico fattore che è la tutela dei diritti, la tutela delle persone in quanto tali. Il Dipartimento sarà diretto della professione Toscana Magrì, che è il nostro direttore della medicina legale d'Arezzo. Riteniamo che questo rappresenti un elemento importante nella riflessione e nella crescita di una comunità professionale, anche di un pezzo di comunità in cui i professionisti si confrontano su tutela dei diritti, consenso alle cure, suicidio assistito, responsabilità professionale, violenza di gente. Sono tutti temi di grande attualità che trovano in questo dipartimento un luogo corretto di approfondimento di studio e di rilascio. L'area di medicina legale e della responsabilità dei professionisti e di etica medica si unisce con l'area del codice rose della tutela dei diritti e acquisisce la macro struttura, quindi acquisisce una potenza organizzativa e importanza all'interno dell'azienda, ma noi stiamo lavorando da 30 anni in questo senso.